Benvenuti nel nostro canale YouTube. Oggi vi porteremo un aggiornamento straordinario sulla situazione del suo adorato figlio Michele, un annuncio che vi lascerà senza fiato. Prima di iniziare, assicuratevi di mettere mi piace al video e di iscrivervi al nostro canale per non perdere nessuna delle future notizie su Michele e la sua battaglia verso la guarigione. Paola Caruso, una madre coraggiosa e determinata, ha vissuto un incubo lo scorso anno durante una vacanza in Egitto con suo figlio Michele, all'epoca appena 4 anni. Durante il viaggio, Michele si sentì debolino e venne portato in un ospedale locale, dove gli fu somministrato un farmaco che in seguito si rivelò tossico. Ciò causò gravi effetti collaterali e Michele perse la capacità di camminare. Da quel momento, la vita di Paola è stata sconvolta e ha dedicato ogni momento alla ricerca di una cura per il suo prezioso bimbo. Paola ha condiviso la sua storia coraggiosa con il pubblico, anche durante un'intervista a Pomeriggio 5, il noto programma televisivo condotto da Silvia Tofanin su Mediaset. L'ex bonus di avanti un altro ha raccontato con grande trasparenza il dramma che ha dovuto affrontare, senza tralasciare alcun dettaglio. Ma ora, finalmente, una luce di speranza brilla per il piccolo Michele. Nei mesi scorsi, Paola ha annunciato che il suo coraggioso figlio si sarebbe sottoposto a un'operazione delicata. E proprio in questi giorni, presso l'ospedale Gaslini di Genova, il miracolo è avvenuto. Un intervento chirurgico eseguito con maestria e amore dal dottor Nunzio Catena ha dato a Michele una speranza di guarigione. Con un cuore pieno di gratitudine, Paola Caruso ha espresso la sua riconoscenza a coloro che hanno reso possibile questa speranza. Un ringraziamento speciale va a Silvia Tofanin. Per essere stata al suo fianco in ogni fase di questo percorso e per averle donato la forza e il supporto necessari per affrontare questa sfida. Un immenso grazie va al dottor Nunzio Catena, che ha operato Michele con una professionalità, umanità e rispetto straordinari. L'ospedale Gaslini di Genova merita anche un encomio per l'eccellenza delle cure fornite a Michele. Ora, ci resta solo da pregare affinché Michele risponda positivamente al tempo e alla fisioterapia. Paola Caruso ha scritto queste parole commoventi sui suoi canali social. Forza, amore mio! Sei più forte di me! Vedremo, nelle prossime settimane, se Michele tornerà a camminare. Continueremo a tenervi aggiornati su ogni suo progresso giorno dopo giorno. Insieme a Paola, affianchiamo Michele in questa battaglia verso la guarigione. Unendoci nella speranza e nella positività, possiamo fare la differenza. Grazie per aver seguito questo straordinario aggiornamento sulla storia di Paola Caruso e Michele. Se vi è piaciuto il video, lasciate un like e condividetelo con i vostri amici. Scrivete nei commenti i vostri pensieri e i vostri messaggi di supporto a Paola e Michele. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale per non perdere le future notizie su Michele e le sue incredibili conquiste. Ci vediamo presto con ulteriori aggiornamenti. Forza, Michele. Paola Caruso, una madre coraggiosa e determinata, ha vissuto un incubo lo scorso anno durante una vacanza in Egitto con suo figlio Michele, all'epoca appena quattro anni. Durante il viaggio, Michele si sentì debolino e venne portato in un ospedale locale, dove gli fu somministrato un farmaco che in seguito si rivelò tossico. Ciò causò gravi effetti collaterali e Michele perse la capacità di camminare. Da quel momento, la vita di Paola è stata sconvolta e ha dedicato ogni momento alla ricerca di una cura per il suo prezioso bimbo. Paola ha condiviso la sua storia coraggiosa con il pubblico, anche durante un'intervista a Pomeriggio 5, il noto programma televisivo condotto da Silvia Toffanin su Mediaset. L'ex bonus di avanti un altro ha raccontato con grande trasparenza il dramma che ha dovuto affrontare, senza tralasciare alcun dettaglio. Ma ora, finalmente, una luce di speranza brilla per il piccolo Michele. Nei mesi scorsi, Paola ha annunciato che il suo coraggioso figlio si sarebbe sottoposto a un'operazione delicata. E proprio in questi giorni, presso l'ospedale Gaslini di Genova, il miracolo è avvenuto. Un intervento chirurgico eseguito con maestria e amore dal dottor Nunzio Catena ha dato a Michele una speranza di guarigione. Con un cuore pieno di gratitudine, Paola Caruso ha espresso la sua riconoscenza a coloro che hanno reso possibile questa speranza. Un ringraziamento speciale va a Silvia Toffanin per essere stata al suo fianco in ogni fase di questo percorso e per averle donato la forza e il supporto necessari per affrontare questa sfida. Un immenso grazie va al dottor Nunzio Catena, che ha operato Michele con una professionalità, umanità e rispetto straordinari. L'ospedale Gaslini di Genova merita anche un encomio per l'eccellenza delle cure fornite a Michele. Ora, ci resta solo da pregare affinché Michele risponda positivamente al tempo e alla fisioterapia. Paola Caruso ha scritto queste parole commoventi sui suoi canali social. Forza, amore mio! Sei più forte di me! Vedremo, nelle prossime settimane, se Michele tornerà a camminare. Continueremo a tenervi aggiornati su ogni suo progresso giorno dopo giorno. Insieme a Paola, affianchiamo Michele in questa battaglia verso la guarigione. Unendoci nella speranza e nella positività, possiamo fare la differenza. Grazie per aver seguito questo straordinario aggiornamento sulla storia di Paola Caruso e Michele. Se vi è piaciuto il video, lasciate un like e condividetelo con i vostri amici. Scrivete nei commenti i vostri pensieri e i vostri messaggi di supporto a Paola e Michele. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale per non perdere le future notizie su Michele e le sue incredibili conquiste. Ci vediamo presto con ulteriori aggiornamenti. Forza, Michele!